Per giovedì 4 gennaio, fatto. Il sottoufficiale, 39 anni, ha perso la mano ed un occhio ed è gravemente danneggiato. Inizialmente ricoverato all'ospedale Careggi, è stato poi trasferito al CTO di Firenze, dove ha subito un intervento delicatissimo chirurgico. A Cerno, dove vivono i genitori ed altri familiari, la notizia dell'incidente capitato a Mario Vece, che vive in Toscana con moglie e figli, si diffusa tra la costernazione e la preoccupazione dell'intera comunità. La famiglia è molto conosciuta e stimata da Cerno ed anche il fratello di Mario, Poliziotto, e presta servizio a Milano, mentre il sottoufficiale, ferito da poco, era stato trasferito da Pisa a Firenze e sin da subito è stato apprezzato dai colleghi per la sua professionalità ed umanità, oltre che disponibilità d'animo. Un altro caso di meningite da meningocoppo registrato ai danni di una bambina di 16 mesi che è stata trasferita alla vigilia di Capodanno dalla reanimazione del Santo Polo a Colugno. La bambina fortunatamente è fuori pericolo dopo la terapia antibiotica ed un protocollo reanimativo ormai collaudato, la piccola sarà dimessa. Il meningocoppo in particolare, il siero tipo C, è il più temibile dei germi che causano la meningite. Si tratta del ceppo che ha registrato una anomala mortalità proprio in Toscana. I veli di res non dichiarati e non versati per circa 700.000 euro è stata questa la scoperta nel corso di accurate indagini svolte dal gruppo della Guardia di Finanza di Pozzuoli nei confronti di una società dell'area flegrea che opera nel settore della commercializzazione di materiali di costruzione, una semplice verifica delle fiamme gialle che ha condotto alla scoperta di una vera e propria evasione fiscale. Due le persone denunciate, pignorate 700.000 euro, che è stata poi la somma rinvenuta su alcuni conti correnti intestati al reale amministratore di fatto della società. Nasce sotto una cattiva luce il nuovo anno nell'Interland di Napoli Nord. Bande di ladri nella notte di San Silvestro hanno piazzato tre colpi mentre infuriavano i fuochi d'artificio. Colpito il megastore Euronics nel parco commerciale alle porte di Napoli ad Atragola dove sono stati razziati smartphone, tablet e rubate computer portatili, ma anche in municipio a Casalatore dove sono state rubate 2.000 carte d'identità e 1.000 euro in contanti. A Casandrino è stato invece assaltato il postamat dell'ufficio postale in via Falcone e Borsellino. In quest'ultimo caso la cassaforte del bankmat delle poste ha resistito a vari tentativi di scasso facendo fallire il colpo. Allora i malviventi hanno messo a soquadro l'ufficio portandosi via qualche monitor ed una stampante. Sei uomini e due donne sono finiti in manetti arrestati dai carabinieri a Poggio Marino si sono resi protagonisti la notte di Capodanno di una maxirissa avvenuta in via San Francesco. L'intervento dei militari non è stato facile, uomini e donne si fanno in tentativi di scasso facendo fallire il colpo. Allora i malviventi hanno messo a soquadro l'ufficio portandosi via qualche monitor ed una stampante. Sei uomini e due donne sono finiti in manetti arrestati dai carabinieri a Poggio Marino si sono resi protagonisti la notte di Capodanno di una maxirissa avvenuta in via San Francesco. L'intervento dei militari non è stato facile, uomini e donne si fronteggiavano usando anche coltelli, spranghe e palle da muratore. Tutto sarebbe nato per futili motivi, a quanto pare anche dopo aver abusato di alcol dai protagonisti. Gli arrestati tra i 47 e i 24 anni sono tutti cittadini dell'Est Europa. Bene, è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appunto di un anno e circa più tardi.